Grattacieli e sostenibilità spesso non vanno d'accordo, tuttavia non è questo il caso della Loth World Tower. Si tratta di un grattacielo situato nella Corea del Sud e in particolare è il quinto più alto del mondo. È famoso per la sua forma sottile e la sua illuminazione notturna che è spettacolare. Ha 123 piani ed è alto 555 metri con un osservatorio a 478 metri di altezza ed è stato inaugurato per la prima volta nel 2017. La Loth World Tower è molto più di un grattacielo. È una comunità sostenibile in cui i residenti abbracciano uno stile di vita eco friendly. La sostenibilità è la parola d'ordine. I pannelli solari catturano l'energia per alimentare gran parte della torre. Sono anche presenti dei grandi giardini verticali che migliorano la qualità dell'aria e rendono l'ambiente più verde. Scoprite quindi il connubio perfetto tra design mozzafiato e responsabilità ambientale alla Loth World Tower. Un'esperienza unica nel cuore di Seul. Seguici per altre curiosità immobiliari.